La prima repubblica non è interessato dal provvedimento e può stare tranquillo. La B. Il lavoratore con più di 30 anni di servizio. I lavoratori che svolgono servizio di polizia. G. Il lavoratore diversamente abile. Grazie, mamma! Deve conferire con la dottoressa. Ho visto che era femmina, ha detto la segretaria. Una bonuscita di 35.000 euro. Ma lei sta scherzando? Non sto scherzando. Io sì. Mi dite un posto di merda! Ma cos'è di merda? Avanti, su! Un cesso voglio! Io non lo lascio il posto ufficio! Non lo lascio! Ma porca puttana oggi! Gesù, aiutami tu! Dammi un segno di vita! Che cosa devo fare qui? Lei dovrà difendere un nostro ricercatore dagli attacchi degli orsi polari. Ma sai qualcosa, Jason? Non lo lascio! 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 Io sono Ateo! Ringraziamo a Chris! Pazzo! Fuori di testa! Sarà un posto dove lui si sente in pericolo! E si sente minacciato! Per me? Eh sì! Benvenuti in Italia!